e con queste carte qua va dentro è soddisfatto di questa iniziativa grazie, grazie, buongiorno salve, prego in fondo a sinistra sono Laura Cera, presidente di Fondazione Valsesia oggi stiamo in corso lo studio epidemiologico voluto dalla Fondazione Valsesia in collaborazione con ASL, l'Università di Piemonte Orientale e il Comune di Borgosesia come donazione da parte della famiglia loro piana cosa sta succedendo? i 10.863 cittadini maggiorenni di Borgosesia oggi avranno la possibilità gratuitamente di fare uno studio epidemiologico di venire qui, di fare un test che può dirgli se ha già fatto il Covid se è in corso la malattia o se invece non è mai entrato in contatto col Covid e quindi è negativo in caso di IgM positive quindi con malattie in corso viene fatto immediatamente il tampone da parte dell'equipe del dottor Borre che è il primario di infettivologia dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli e nel giro di poche ore avrà il risultato chiaramente viene invitato a mettersi in quarantena e verrà messo nel percorso previsto dalle normative sanitarie in caso di negatività uno sa che non è entrato in contatto per cui deve stare ancora più allerta deve stare ancora più con attenzione se ha le IgG positive vuol dire che è già stato in contatto magari ha già fatto la malattia e quindi può o accettare di partecipare con un prelievo venoso a uno studio epidemiologico anche quello sempre fatto dal dottor Borre oppure se non accetta tornerà a casa sapendo che comunque lui la malattia ma questo l'immunità non sappiamo quanto può durare la cosa fondamentale è che avere un test di questo tipo che copre tutta la popolazione ci dà una fotografia in questo momento che è un momento estremamente importante perché è la fine del lockdown e quindi fra 15 giorni potremo verificare eventualmente magari non sappiamo se ripetere però vedremo com'è la situazione dal lockdown come siamo passati in una fase di maggiore libertà mi raccomando quello che invito da parte della fondazione tutti i cittadini a mantenere sempre le regole le distanze la mascherina nei luoghi chiusi e soprattutto appunto evitare gli assembramenti fate quello che avete fatto fino adesso e sicuramente l'Italia potrà riaprire e potrà andare avanti grazie la fondazione Valsesia vi ringrazia e ringrazio tutti quelli che stanno partecipando in particolare tutti i volontari sono 300 volontari nel giro di 48 ore che prenderanno parte a questo studio con Croce Rossa Protezione Civile Alpini IGEA mille associazioni che ringrazio tutte per lo sforzo la fondazione è nata un anno fa e non mai si sarebbe pensato di poter raggiungere questi obiettivi grazie a tutti questa iniziativa del test epidemiologico è stata voluta da Pierluigi Loro Piana e dalla famiglia Loro Piana ed è grazie a loro che possiamo svolgere questo test ecco passo il microfono a Pierluigi Loro Piana che vi dirà due cose il messaggio è molto semplice noi abbiamo solamente fatto quello che credo ogni cittadino nel proprio territorio deve cercare di fare e vuol dire aiutare a seconda di quello che può deve aiutare il territorio a fare il meglio quindi la fondazione che è presieduta da Laura Cerva ha svolto un lavoro ottimo il comune ha fatto un lavoro ottimo fino a che siamo riusciti a organizzare questa questa analisi epidemiologica per 10.800 persone quindi il nostro contributo è stato solo quello di fare un po' dedicare un po' di tempo dedicare quello che era necessario per fare una cosa che spero dia una mano in questo momento difficile niente di più grazie ecco l'altro grande protagonista della giornata è il dottor Silvio Borré che è primario del reparto di infettivologia dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli che sta sovraintendendo allo studio epidemiologico insieme poi al dottor Faggiano dell'Università del Piemonte Orientale di Novara passo il microfono al dottor Borré grazie alla dottoressa Cerra siamo qui per sostenere sostenere questa iniziativa portata avanti da Fondazione Valsesia che ha anche supportato in modo estremamente significativo l'ASL l'ospedale di Vercelli l'ospedale di Borgo nelle diverse esigenze che si sono acutamente evidenziate nel diffondersi dell'epidemia Covid mi sembra che l'organizzazione sia impeccabile l'adesione da parte dei cittadini di Borgo Sessia sia altrettanto importante e quindi speriamo davvero di poter dare un dato epidemiologico su quello che è stato il passaggio di questo virus su questo territorio questa giornata dovrebbe fornirci il dato epidemiologico cioè quanto è circolato il virus su questo territorio quanto questo virus ha intercettato la popolazione di questa città della Valsesia Buongiorno a tutti il mio ringraziamento da sindaco di questa bellissima cittadina Fondazione Valsesia capitanata da Laura Cerra a Croce Rossa a Borgosesi all'AIB alla Protezione Civile a tutte le persone che hanno lavorato per rendere possibile questa giornata la prima giornata in Italia in cui viene fatto uno screening di massa gratuito un percorso netto perché chi ha gli GM positivi oltre al test aerologico si può sottoporre all'istante al tampone è un esempio la Regione e l'ASL hanno appoggiato questo test epidemiologico l'auspicio e che anche questa volta non solo per l'assistenza scolastica Borgosesia sia da modello per tutti quindi esorto i nostri esponenti regionali e Regione Piemonte a seguire l'esempio di Borgosesia grazie a tutti